soprannome. The Doodler. Vittime accertate. 14. Modus operandi. Accoltellamento. The Doodler è stato un serial killer mai catturato che prese di mira e terrorizzò la comunità omosessuale di San Francisco, California, tra il 1974 e il 1975. Uccise 14 persone, tutte incontrate in bar o altri locali gay. Ogni volta che avveniva un omicidio, veniva visto lo stesso uomo, non conosciuto dalla comunità omosessuale, che si aggirava con fare sospetto. La polizia non ha mai rilasciato tutte le identità delle vittime. Abbiamo informazioni solo di cinque di queste. È il 24 gennaio 1974. Gerald Kevanot, 49 anni, trovato cadavere, denudato, sulla riva dell'oceano. Aveva segni di autodifesa, quindi ha lottato con il suo assassino, ma fu ucciso lo stesso a pugnalate. 25 giugno 1974. Joseph Stevens, 27 anni, fu trovato morto da una donna che passeggiava lungo un lago. Probabilmente Stevens aveva conosciuto il suo assassino in un locale gay, fece amicizia e quando furono rimasti soli, venne pugnalato ripetutamente ed enudato. 7 luglio 1974. Klaus Christmann, un immigrato tedesco, fu ritrovato morto da una signora che passeggiava col cane. Klaus era sposato e aveva due bambini, ma la valigetta con dentro i trucchi che portava a mano, forse, ha tratto in inganno l'assassino che, credendo fosse omosessuale, si accanì violentemente. L'attacco fu brutale. L'uomo non fu denudato ma venne pugnalato molte volte su tutto il corpo e la gola aveva subito talmente tanti tagli da quasi decapita. 12 maggio 1975. Frederick Happing, 32 anni, ex militare della Marina, fu sgozzato brutalmente e pugnalato su tutto il corpo per svariate volte. 4 giugno 1975, Harald Gullberg, 66 anni, immigrato svedese, fu trovato in stato di decomposizione. La sua biancheria intima e i pantaloni erano stati rimossi dall'assassino. Ucciso sgozzato e pugnalato. Questa è l'ultima vittima di cui abbiamo notizie e di cui la polizia ha rilasciato informazioni. Le aggressioni e gli omicidi intanto aumentavano. Solo tre delle 14 vittime riuscirono a sopravvivere all'aggressione. La comunità gay, terrorizzata, faceva pressione per trovare il serial killer ma gli indizi erano pochi. La polizia ha interrogato un giovane sospettato di essere l'autore dei crimini, ma le vittime sopravvissute non vollero testimoniare contro di lui in tribunale, quindi non si è potuto procedere col processo. Gli investigatori stesero un profilo del serial killer in base alle varie testimonianze. Ma ad oggi, il caso di The Doodler, l'assassino dei gay, rimane ancora irrisolto. A partire dal maggio 2018 il caso è stato riaperto. Di recente sono state trovate tracce di DNA non appartenente alle vittime. Le indagini continuano.